Allora, come faccio a fare la parola? Mino, la masca? Ma la levo? Eh, te la levi sì, stiamo... Non è che mi fanno la multa? Eh? Mi fanno la multa. Non ci fanno la multa, stiamo rispettando... Guarda, c'è la distanza, anteprima di una voce per Padre Pio... Siamo in diretta, spieghiamo di che si tratta. Allora, anteprima di una voce per Padre Pio, la ventunesima edizione, tantissima solidarietà, il numero è questo, il 45531, potete già cominciare a donare, siamo qua. Vogliamo dire già il numero? Sì, 45531 e questo l'ho detto. Siamo a Roma, non saremo purtroppo a Pietrelcina perché... Eh, ma non ce la facciamo. Eh? Non ce la facciamo ad arrivare a Pietrelcina, a farla là, un volo, un volo. Tra due minuti c'è un po' di pubblicità e poi... Allungano la pubblicità, mettono quattro macchine in più, due telefonini in più, fanno una pubblicità bella lunga. Quando noi siamo arrivati diciamo basta con la pubblicità, possiamo cominciare. È solo le due di notte però. Ma perché non c'è un sistema? No, è prima serata, è prima serata. E la facciamo qua? La facciamo qua, da Roma. E dobbiamo mentire? No, no, non mente, ma ti pare che in una voce per Padre Pio mentiamo, non dire... Diciamo la verità. Eh certo, siamo a Roma, non siamo a Pietrelcina. In diretta. In diretta. Dal teatro delle vittorie. Non è il teatro delle vittorie. Si dice così. Si dice sempre. Dirige vince tempera. Eh, non è così. Eh? Posso anche dire. Tantissimi ospiti, tantissime sorprese. Cantanti. Cantanti, Red Canziani. Presentiamo noi due. Eh? E basta, noi due. No, c'è anche... Una presenza femminile. Arriva Natali Ghettà, però non si sa dove sta. No, 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 una presenza femminile. C'è Ron, c'è Tosca d'Aquino, eh? Una presenza femminile. Una presenza... Sì, sarebbe, t'ho detto, è Natali Ghettà, ma non arriva, non si trova. Come al solito. C'è Romina, Romina, Romina Power. Apriremo con Romina Power. Capito? C'è l'ho fatta. Eccola qua. Romina. E' cambiata, è diversa. Ma fa a me molto piacere. Chiaro scusa per il ritardo, perché l'aero, il bagaglio, il cane, Achille. E' nata lì. Achille che ho lasciato a Parigi. Achille il cane. Perciò sei contenta. Tutto questo è molto di più dopo la pubblicità, una voce per Padre Pio. Cominciamo proprio bene. Vabbè. Nino Frassica, Natali Ghettà. Ma c'ho arrivato troppo tardi. In italiano la dobbiamo fare la serata. Ah sì? Va bene.